Rispetto al quadro che aveva tratto già qualche settimana fa, che si muoveva una sessione, o addirittura una sessione di amministrazione a parte della famiglia, accanto a lei, sono delle sensazioni? No, anzi, questa lontananza del che va vale, questo silenzio, assolutamente innaturale, siamo una cosa loro e si vorrebbe essere anche accuditi in qualche modo, non si vive soltanto di polemiche, però non si vive a nuova l'assenza, il fatto che si continui in questo vuoto mi fa pensare, mi fa veramente capire che c'è una rottura definitiva. Gli interventi di via che le lavavere non sono tesi a combattare alcun interambiente, perché si pensava che si fosse trovata una situazione che si è fermato accettabile anche dal punto di vista antico, con la squadra, perché l'abbiamo considerato che ci fosse stato sceso, però si è fermato accettabile anche dal punto di vista antico. Io gli interventi me ne ricordo uno, quello degli apportoi, mi dice, vabbè, è passato già nel più tempo, non è stato finisce, ma siamo abituati a molte altre cose. No, io credo che ci sia stata pazienza da parte della gente, dopo molti mesi, forse anni, un paio d'anni di sofferenza, secondo me eccessiva, che ha veramente inclinato il rapporto, però credo che questa pazienza attuale fosse dovuta alla fiducia, alla curiosità, alla speranza della squadra che la squadra fosse una squadra. Via via che si sta dimostrando qualche cosa di leggero, si alleggerisce anche, aumenta la consapevolezza dei problemi e si alleggerisce dell'imposizione, guarda povera tecnicamente, guarda povera.